Un nuovo pacchetto per portare a casa vostra la musica dei nostri grandi artisti e devo dire che ho scelto oculatamente Portami a Ballare, una bellissima raccolta dei più grandi brani dell'orchestra di Rinzo Tommasini con titoli come Portami a Ballare, Indians, Il Galletto Coccodè, Il Ciringuito, il pezzo al quale ho partecipato anch'io e altri brani che mettono davvero allegria. E poi passiamo alla voce della Romagna, Patrizia Ceccarelli con questa bellissima compilation, semplicemente grazie, che racchiude 20 anni della sua grande carriera e qui ci sono brani come L'amore fa miracoli, Doppio passo, Mille anni ancora, Anni 40, Fini mondo, Roma Dio, Luna loca, un disco che assolutamente non può mancare nelle vostre case e infine, a grande richiesta, Festosa. Tanti di voi amano la Fisarmonica, tanti me l'hanno richiesto e questo è il CD che racchiude i più brei brani appunto di Dante Fetto Musica con in prima linea Festosa, ma qui trovate anche Passeggiata Dance, Pazzarella, Allegrissima, Esclusivo, Tiburon Popolare, Canto dell'Est, Taranfa e altri brani appunto interpretati da questa grande orchestra, da questa bellissima Fisarmonica. Beh, devo dire che questo è un pacchetto incredibile che vi farà stare bene, vi farà ballare, vi farà sognare pieni di tanta energia positiva e anche qui non può mancare il nostro regalo di prossima fermata liscio perché a soli 39 euro compreso spese di spedizione, spese di contrassegno, quindi come dico sempre quando arriva il postino e suona la porta voi ritirate il pacco e consegnate 39 euro in contanti, noi vi regaliamo questo bellissimo CD per farvi ballare in alto le mani e il titolo è tutto un programma, all'interno trovate canzoni come Formentera, Errante, Ecco la felicità, Dubai, Siamo così in alto le mani e tantissimi altri brani divertenti da ballare anche da solo in casa o col vostro partner o con qualche d'uno della famiglia perché dobbiamo comunque mantenerci tonici, dobbiamo mantenerci in forma e in linea perché quando avremo l'opportunità di tornare a ballare e rivederci con i nostri amici noi dovremo assolutamente ricordare tutto, non aver dimenticato nulla, per cui questo è un bellissimo pacchetto, un regalo da farvi assolutamente perché questa musica è davvero vita, aspetto le vostre telefonate.